Pronti a stappare il divertimento? Oggi giochiamo alle Soda Pop! Ciao a tutti, giocatori, giochettrici e semplici curiosi! Noi siamo Giullari come ogni lunedì e mercoledì, siamo qui per un nuovo gameplay che quest'oggi è stato sponsorizzato da Thundergriff Game che dal 28 febbraio porterà su BakerKit la collezione delle Soda Pop, ovvero 4 lattine, una la vedete qua, tre le vedete sullo sfondo, all'interno delle quali si trovano dei giochi super compatti, super portatili per due giocatori e tutti quanti di base hanno la caratteristica di essere giocabili testa a testa in giochi astratti dalla grande profondità pur mantenendo delle regole molto semplici e un setup nullo, aprite la lattina e siete pronti per iniziare a giocare. Partiremo adesso, non so partire se vale, ma in realtà partiremo... Volevo fare una doverosa precisazione iniziale pre-gioco, allora, lo sapete, noi con gli astratti facciamo pena e pietà, daremo il nostro meglio, ci impegneremo tantissimo, ma non basatele sulle nostre capacità nel gioco astratto, perché i giochi sono semplici, le regole sono poche, quindi... Li sappiamo giocare, ma non è detto che vi sapremo mostrare il meglio di quello che può dare il gioco. Esatto, esatto, i giochi daranno sicuramente molto di più sfide, molto più avvincenti delle nostre, per questo motivo vi chiediamo scusa, ma adesso partiremo con mostrarvi il nostro gameplay di Top Cup, il primo gioco che vedete già apparecchiato qua sul tavolo, fatto da questi tappi di bottiglia, e nel quale dovremmo, vinceremo, riuscendo a portare uno dei nostri tappi sopra la bottiglia dell'avversario, perché dove ci troviamo, Bari? Siamo in un pub, ragazzi, siamo in un pub, fuori fa freddo, e noi siamo al calduccio del nostro locale preferito, mentre chiacchieriamo con la nostra compagnia, però vogliamo fare qualcosa. Ci guardiamo attorno, troviamo dei tappi di bottiglia, in un angolo troviamo un tavoliere, un vecchio tavoliere, prendiamo questi tappi, ci mettiamo lì, guardiamo, ci guardiamo negli occhi, ok, facciamo questo gioco e iniziamo. Infatti, come vedete, se tappato il gioco conterrà questo tappetino, conterrà questi otto tappi di bottiglia e distribuiti, se tappati in questo modo, un giocatore che vale sarà il nero, l'altro giocatore sarà il color crema, e inizia l'ultimo giocatore ad aver bevuto qualcosa, siccome io ho bevuto un ginseng prima di iniziare a registrare, sarò io. Il nostro turno sarà l'obiettivo quello di portare uno o qualsiasi dei nostri tappi sulla bottiglia dell'avversario, al nostro turno noi scegliamo uno dei nostri tappi e lo spostiamo in una direzione qualsiasi che abbia libera attorno a sé. Di quanto lo possiamo muovere dipende da quante altri tappi, nostri o dell'altro giocatore, abbiamo nelle caselle tutto attorno a noi, quindi nelle otto caselle che ci circondano, contiamo quanti tappi ci sono e ci muoviamo nella direzione che vogliamo di altrettanti passi. Non possiamo però muoverci se siamo bloccati lungo il movimento da altri tappi nostri o dell'altro giocatore. Quindi in questo caso io potrei muovere questo tappo di una casella perché tocca un altro tappo, o questi due tappi li posso muovere di due caselle ciascuno perché entrambi hanno due attorno a sé. Io partirò facendo questa cosa che questo tappo lo muovo di due e in quale direzione scelgo di muoverlo in questa. E ho fatto la mia azione e tocca avare. Sono concentratissima e scusate se non vi considero ma iniziamo a muovere questo di uno. Ok perché quello si può muovere al massimo di uno. Allora io provo a fare... Questo si deve muovere di due e quindi o torna... Oppure potrebbe anche andare in là. Guarda io provo a fare questo. Questo tappo si muove di due e scelgo di muoverlo di due in questa direzione. Uno, due. In questo momento questo non ha tappi attorno e lì è bloccato. Non lo potrò muovere a meno di... Che vale o io stesso mi avvicini qualcosa a quel tappo. Allora questo mio tappo anche si muove di due. E io lo muovo così. Uno e due. Bellissimo. In questo momento se io non tolgo uno di questi due tappi vale ha vinto. Perché questo si può muovere di due in questo momento e vale arriva qua. Quindi io devo levare uno di quei due lì. Visto che questo mio anche si muove di due io proverò a fare questo. Uno e due. E adesso... Questo qua si può muovere di tre. Di tre. Di tre. Non si può mai uscire ovviamente dal tabellone ma sa va a San Diero. Uno, due e tre. Ed ecco che vale torna a rendermi muovibile questo pezzo. Cosa che a me non dispiace per quanto preferisco bloccarle maggiormente quello là muovendo questo di due spazi. Perché ha due attorno a sé. E lo muoverò in qua. Uno, due. Così anche il mio galletto di Tune potrà ricominciare a muoversi. Il galletto va all'espluga. Allora, questo si muove di uno. Se lo metto qua, tu questo lo puoi muovere di due. Poi questo lo muovi di uno. E poi chissà. E poi chissà. Perché non siamo capaci di vedere così avanti nelle mosse del gioco. Vi chiediamo scusa. Io muovo questo di uno. Ok. Nella direzione che si aggrada maggiormente. Io farò che questo che si può muovere di due lo muovo di due in questa direzione. Ok. Poi quindi questo si potrà muovere di tre. Quindi in questo momento lì è bloccato ora come ora con gli attuali spazi. Ah, io muovo questo di due. Cazza bubola. Ma ce la fai, ce la fai. Ce la posso fare ancora a bloccarti. Perché questo che si muove di uno, il dragone di Thangarden, lo posso muovere di uno. Perché attorno a sé ne ha uno e io lo muovo qui. Bravo. In questo momento entrambi quelli di Vale si muovono di due. Ma quello arriva. Scusate ho già detto una parolaccia. Niente. Lasci così. Dovevo muoverlo qua. Giusto? Così non avresti vinto. Perché. No, no. Sì perché quello si muove di due. Questo si muove di due. Però ormai l'ho sbagliato. Quindi niente. Avrei dovuto muoverlo qua. Avete capito perché non siamo capaci. Perché il classico gioco dove ti distrai un attimo e l'altro vince. Perché hai fatto una cavolata. Se vuoi fallo, fallo. Ma no, ma no. È ormai Vale. Cioè cosa mi... Perché calcolavo che quello gli servisse anche uno. E invece così ora questo si può muovere di due. Vabbè. Se io l'avessi messo lì. Ora ha vinto Vale. Bravo Vale. Ma no, vabbè. Ma per far vedere com'è. Io. Come fossi più bravo. Mi accorgo che muovendolo in questa posizione. Vale. Questo ora lo deve muovere di due. Non arriva. Questo di uno. Non arriva. In realtà. E diciamo che è arrivata lo stesso. Però vediamo. Cosa farà. Allora. Aspetta. Perché questa adesso ha la possibilità di muoversi di due. Però va abbastanza a isolarsi. Quindi potrei lasciare... Dipende poi tu dove mi muovi il... Certo. Il farmer di Rolling Ranch. È il portale paziente. Se io muovo di due questo qua. Allora. Questo qua adesso si muove di uno. Potrei metterlo qua. Proviamo. Dai. Avviciniamoci. Certo. Perché così vale adesso uno o uno. Cioè questo si muove di due. Questo si muove di uno. Io provo nuovamente a fare come prima. Ho visto che questo si muove solo di uno. A metterlo qua. Adesso entrambi i tuoi due tappi si dovrebbero muovere di due. E quindi non riesci ad arrivare. Però riesci. Ah. Riesco? No. Perché questo si muove. Ah no. No. È vero. Perché poi me ne vado. No. No. Dicevo. Allontani questo. Così poi se ne ho messo più di uno. Ma io intanto me ne vado. Quindi. Che casino. Non potete mai spostare il vostro tappo sulla vostra bottiglia. Allora. Io lì. Quello là non lo devo toccare. Mi immagino già i bravi voi bravi. Questo si muove di due. E quindi lo posso mettere qua. Quello si muove di. Questo si muove di due. Ah il tuo. Sì. Questo si muove di uno. Perché tu qua. Ora come ora qua non stai vincendo. Quindi. A meno che non me ne sono accorto. Ma non stai vincendo. Io quindi provo a fare questa cosa. Ergo. Se Vale non toglie questo. Io vado a vincere. Ma ora verosimilmente lei lo toglierà. E io poi ne ho due totalmente bloccati. Ok. Ora io quindi sono obbligato a muovere. O questo o quello. Questo abbiamo detto che se lo muovo. Anche perché si deve muovere di due. Vale vince. Muoverò questo. Che si può muovere di uno. Senti. Io provo a fare così. Posso. Era una casella libera. Attorno a me. E. Ora qua questi si dovrebbero muovere tanto. Comunque Vale ha già vincere. È tutto finto. Uno. Due. Questo mio. Si muove di uno. Due. Tre. E quattro. Quindi non posso muoverlo da nessuna parte. Speravo di fare. Chissà cosa farò niente. Questo si muove di tre. E. Lo devo muovere per forza di cose. In qua. Tra l'altro era l'unico movimento possibile che avevo. O lo muovo qua o lo muovevo là. Quella mi ha isolato. Questo si muove. Di due. Mettiamolo qua. Ok. Io ora. Muoverò lui di. Uno. In. Quest. Lui qua. Quello muovi di uno. E quello muovi di uno. Eh. Io in un paio di mosse riesco ad arrivare. Però. Boh. Questo si muove di due. Uno. E due. Quindi io ora. Vale mi mette nella condizione. Anziché di poter attaccare di qua. Di dover difendere questo. Togliendolo. Di fatto. Togliendolo. Di fare le mosse non riesco. Io posso muovere solo loro due. Di uno ciascuno. Muovo lui qua. Di modo che il prossimo turno. Ah. Questo arriverebbe. O anche lui stesso. Peccato che tocca a Vale. Ho uno. Prego Vale. Vale. Ha vinto davvero. La partita Top Cup. Mi avevo già vinto al mio errore. Di 12 minuti fa. Ma va da bene. Ma va da bene. Ma tocca a pagare da bene. Ma tocca a pagare da bene. Signori e signori. Questo era Top Cup. Che vi ricordiamo. Dal 28 di febbraio. Su Baker Kit. Avete il link qua sotto. In descrizione. Dove poterlo prendere. Anche assieme agli altri titoli. Della Soda Pop. Che adesso andiamo a mostrarvi. Ed eccoci con Catacombi. Il secondo gioco. Che vi portiamo a mostrare. Dove andremo a gestire. Dei gattini. Che sono a casa. Da soli. Senza gli umani. Quindi vogliono giocare. Divertirsi. Giocare da chiapparella. Quindi. E quindi cercheranno di prendere. Il controllo di varie zone. Radunarsi in gruppi. E come vedete apparecchiato. Anche qui abbiamo. Pochissimi elementi. Che stanno tutti quanti all'interno. Della lattina. Delle Soda Pop. Creeremo il campo da gioco. Con questi esagoni. Dandogli questa forma. Ma mescolando gli esagoni. Come vogliamo. L'ultimo giocatore. Ad aver pettinato. Un gatto. Ma in ogni caso. Non potrei essere io. Come sapete. Con la mia forte allergia. Non posso neanche avvicinarmi. Quindi. Vale. Sarà il primo giocatore. E infatti andate a posizionare. Questi quattro gatti cubotti. Su. Tre gatti cubotti. Su tre esagoni. Di colori diversi. Ci sarà il colore bianco. Che sarà associato ai miei gatti. Il colore nero. Che sarà associato ai gatti di Vale. E noi vinceremo. O avendo il controllo dei tre esagoni. Di tre esagoni dello stesso colore. Oppure avendo il nostro gatto in cima a tre pile alte. Almeno tre. Di non importa che colore. E vedremo quindi come faremo nel nostro turno. Quindi tocca vale iniziale. Tocca vale. Nel nostro turno noi abbiamo due opzioni. O piazziamo un nostro gatto sopra. Quando lo facciamo dovrà essere piazzato sopra. Esattamente un altro gatto. Non lo possiamo posizionare ad altre altezze. Oppure muoviamo pile di gatti. Ci sono due regole d'oro. Da rispettare sempre nel corso della partita. Una è che due gatti dello stesso colore. Non potranno mai essere. Adiacenti. Vicini. Non potranno mai toccarsi due cubotti dello stesso colore. E nessuna torre potrà mai essere più alta di tre gatti. Quindi Vale sceglie di posizionare lì. Scelgo di farlo anch'io. Venendomi a posizionare invece sopra questo. Voi potete posizionarvi sopra il gatto del colore che volete. Tranne che del vostro colore. Infatti il setup gli unici tre gatti che abbiamo già lì. Sono tutti tre marroni. Quindi ci posizioniamo. Ma nel corso della partita. In questo momento io non ho più la possibilità. Quindi di fare l'azione posiziona gatto. Visto che non ci sono gatti singoli. Sarò obbligato a fare l'altra opzione. Ovvero quella di muovere i gatti. E io sceglierò di muovere. Mamma mia Vale se è brutta questa mappa. Inizierò a fare così. Sarà. Uno e due. Nel movimento io prendo un'intera pila di gatti. E muovendomi di casella in casella. Volendo anche ritornando su caselle da cui sono partito. Su cui sono passato. Devo lasciare un cubotto. Partendo dal cubotto che si trova sul fondo della pila. Posso lasciarli anche in caselle già occupate. A patto che l'altezza non superi mai il 3. E non ci siano mai due gatti uguali vicini. Come vi dicevamo. Noi potremmo vincere. Ma adesso è vicino alla vittoria. Perché controlla già due esagoni marroni. Riuscisse a prendere il controllo anche di questo. Vince immediatamente la partita. Si controlla un esagono quando il nostro cubotto è quello in cima. Che sia piano terra. Che sia il terzo piano. Non importa. Basta che sia in cima. Oppure in cima a tre pile da 3. In questo momento io sono già su una pila da 3. Certo. Visto che io nuovamente non posso piazzare. Dovrò nuovamente andare a muovere. E farò che muovo Vale. E la muovo così. Ok. E tocca a Vale. Anche qui come prima in Top Cup. Non noterò qualcosa a un certo punto. E Vale vincerà la partita. E così purtroppo per voi. Purtroppo per voi. Che già so che c'è chi dice. Io continuo a fare così. No dovevi mettere. Dovevi fare. Vale adesso sei lì così. Io vengo qui. Ok. Allora. Quindi Vale ora deve muovere la pila che vuole lei. Ok. Ok. E ok. Perfetto. Ottimo. Tutto regolare. Tutto esattamente come volevo io. Ah sì? No. Io vengo qua. In questo momento io sto controllando due bianchi e un marrone. Non ho ancora vinto. Vale sta controllando un nero e un marrone. Ma tutto può cambiare. Quindi se Vale mi prende il controllo di quel nero là, cosa che tu puoi fare tranquillamente muovendo questa pila, hai vinto. Ma io ti frego, perché sono molto intelligente, e faccio tipo così, tac e tac. Che non potevo andarmi a posizionare direttamente sopra siccome non ne aveva piano uno, ma in questo momento non dovrei starle concedendo grandi cose. E' anche vero che non ho io la possibilità di andare a prendere controllo dell'altro marrone perché l'ho fatto diventare alto 3, ma va bene così. E Vale posiziona. Quando spostiamo una pila può anche essere una pila fatta da un unico gatto. Non è... non deve essere alta. Vabbè però... Io vengo qui. Allora... Ok. Se non avete più cubotti fuori, niente, non potrete più fare l'azione piazzo fondamentalmente. Ok, quindi in questo momento Vale è di nuovo su due marroni, l'altro marrone è là, su cui lei comunque potrebbe arrivarci in qualche modo. Io devo provare a portarla via da lì. Quindi facciamo che questa cosa... E ora mi sono messo io a controllare due esagoni neri e quindi con la mia prossima mossa potrei prendere il controllo del terzo nero, che però non è così scontato che si riesca a fare. Allora... Allora... Anche perché soprattutto bisogna anche fare attenzione a non lasciare l'altra condizione di vittoria anche, che aumenta... L'ha provato di tutti un gioco difficilissimo con la mia testa. Scusate. Allora... Dunque... Se faccio così, lui può fare così. Quindi Vale, io ora so, e non è una brutta informazione, uno forse un po' più smatra, che lei non potrà più posizionare i suoi cubetti. Solo spostarli. Quindi... Ah, mio zio! Che pasticcio! Quindi... Io... Dovrei riusci... In questo momento... Non riesco a prendere il controllo di... Niente. Però... Però... Posso pensare... Tu Vale ora hai due neri e non devi prendere il controllo di quel nero là, se no... Ciao. Se no, ciao. Quindi, se io ti togliessi tipo questo, facendo una cosa tipo questa... Tu a prendere il controllo di quel nero là ci arrivi lo stesso. Quindi no. Quindi ti devo togliere da uno di questi due. E facciamo... Facciamo così. Ok. Non avevo ancora tolto il dito, quindi come negli scacchi si può rifare la mossa. Perché non avevo ancora tolto il dito. Tolto il dito, mossa fatta. Non come prima che Vale poi gentilmente mi ha lasciato rifare, ma... Ok. Immaginavo che capitassero cose stravaganti in questo momento. Vale ora il controllo di due marroni e può facilmente prendersi il controllo del terzo. a meno che io riesca... A meno che io riesca... A... 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 A togliere il controllo di uno di quelli. Quindi, sì, proviamo così Quindi, tac e tac In questo momento dovrebbe andare tutto abbastanza bene No, no, vabbè Abbiamo detto che hai tolto il dito Allora, allora Vabbè Ah, io sono bianco C'è, posso fare Nero C'è, posso fare In questo momento controlla due neri, però Se prende il controllo di un terzo nero Vince, il fatto è che io non potevo andare a mettere l'ultimo nero su un suo nero Perché due dello stesso colore non possono mai toccarsi Se Vale riesce a prendere il controllo anche del terzo nero Cosa che riesce a fare senza grossi problemi Dovrei fare un giro, ecco, così Eh già, così, così e così E in questo momento vediamo un po' Vale sta controllando Uno, due, tre neri Vale Eh Grazie Questa miseria Questa miseria Questa è Cat a combo Gioco nel quale dovrete conquistare l'universo con i vostri gatti Gatti Ma siamo solo a metà perché abbiamo ancora due lattine della soda pop da farvi vedere Passiamo ora alla terza lattina delle soda pop con For Genesis Gioco del quale saremo dei forgiatori che con ferro e acciaio e legno andremo a scolpire delle creature di animali Dentro cui poi soffieremo l'alito della vita e le utilizzeremo per determinare chi è stato il miglior forgiatore Infatti come vedete ne abbiamo già proprio la nostra forgia qua sul tavolo con gli animali che abbiamo creato Ci sono sei animali diversi all'interno del gioco però se ne utilizzano soltanto quattro in ogni partita Tra l'altro cosa che non abbiamo detto all'inizio ma era doveroso anche sottolineare ve lo diciamo anche adesso E che ciò che vedete di tutte le lattine che avete visto finora di questa e della prossima ancora che andremo a vedere Sono tutti quanti i materiali prototipali quindi magari anche qualcosina nelle regole potrebbe anche ancora modificarsi E sicuramente verranno modificati ancora i materiali che già e sono molto molto belli però sicuramente vedranno ancora miglior fattura All'interno del progetto su Baker kit di cui vi lasciamo il link qua sotto in descrizione andatelo a recuperare Dicevo dei sei animali se ne utilizzano solo quattro e noi utilizzeremo quelli consigliati per le prime partite Quindi avremo l'aquila, avremo lo scarabeo, avremo il serpente e avremo la rana Restano fuori la farfalla e la libellula perché ciascun animale avrà le sue potenzialità Avrà le sue punti di forza, avrà le sue abilità uniche che gli altri non hanno Quindi vai tu, vai, vale, scegli un animale e lo mette in uno delle sue zone di generazione Ovvero i due spazi del nostro colore su quello che preferisce lei Siamo dai col serpente e lo metto qua Il serpente è molto bello Io però partirò a questo punto con l'aquilotto E tocca vale, al nostro turno noi abbiamo due opzioni O attiviamo fino a tutti quanti gli animali che abbiamo in gioco o muovendoli o usando la loro abilità speciale Finita la nostra azione potremo poi evocare un nuovo animale se vogliamo Oppure ci riposiamo E quando ci riposiamo è perché stiamo riattivando tutti gli animali di cui abbiamo utilizzato le abilità Se nel caso non riusciamo a fare nulla di legale nel nostro turno abbiamo perso E vinciamo se portiamo un nostro qualsiasi animale sulla forgia dell'avversario Ok, quindi anche il movimento Perché quanto riguarda il serpente è ortogonale Tutte le tessere se scegliamo di muoverle si muovono in una casella ortogonalmente adiacente a quella su cui sono Con il vincolo di non poter mai ritornare indietro verso la nostra forgia Almeno di usare la nostra abilità speciale E poi ho mosso il mio serpente qua Poi scelgo di inserire un altro animale Ok E metto la rana qua Ok, io anche mi muovo ortogonalmente qui con il mio aquilotto E anch'io entrerò, ma io entrerò con la rana Ok Ok Prego Vale L'evocazione è facoltativa alla fine del vostro turno Non siete obbligati a farla E adesso che tocca Vale Vale può attivare tutti i suoi animali O fino a tutti i suoi animali Almeno uno sarà obbligato ad attivarlo Muovendoli o usando nell'abilità speciale Certo Ok Il serpente è qua Ok E poi mi faccio entrare il mio scarabeo Giusto Io anche sono obbligato a fare cose E io ti dico che Partirò usando L'abilità Speciale Della mia rana Ok Perché la rana Come abilità speciale ha Guarda un po' quella di saltare Può saltare una pedina Di qualsiasi giocatore Che gli sia ortogonalmente adiacente Per finire a due caselle di distanza Rispetto a quella da cui è partita Quindi in questo momento io La uso per saltare Ogni volta che utilizzerò però L'abilità speciale di una pedina Quella pedina va disattivata Da quel momento io non la posso più Né muovere Né usare l'abilità speciale Né nulla Fino che non impiegherò un intero turno Per riposarmi Dopodiché ho ancora a disposizione Il falco E diciamo che lo spostiamo qui Potrei evocare E voglio venire a evocare il serpente qua Non si è obbligati a evocare Ricordate Lo tocca a Vale Allora E ricordatevi non potete mai indietreggiare Verso casa vostra A meno di farlo con un movimento speciale Allora uso il movimento speciale della mia Havana Salto Ok 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 Poi 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 People from Ibiza Usa ancora Il potere speciale del serpente Che è quello di scambiarsi Esatto, il serpente si scambia di posizione con una pedina ortogonalmente adiacente, e lo scambio con la mia rana, e lo disattivo, tac, tu dici la rana salta lì, questo per ora lo lascio lì, non sei obbligato, è l'importante a muoverla in uno, però faccio entrare la mia aquila, ok, quindi è il mio turno, io muovo questo, e schiero questo, posto così, li abbiamo tutti tutte in campo, va bene, prego, Io attivo, non abbiamo ancora, Vale sceglie di spendere il suo turno per usare i suoi poteri, giusto, ok, perché io potrei fare così, così, e stare fermo, ce ne sentite il rumore delle rotelle, dei nostri cervelli che, il problema, il problema qual è, che quel serpente lì, si è bello eh, attivo, è bello, E' una bella rottura, però tu se usi lo switch, poi devi, senti, io provo a fare ancora questo, quindi, uso il mio serpente per scambiarlo con il mio aquilotto, e l'aquilotto voglio usare la sua abilità speciale, che è quella di potersi muovere in diagonale, quindi lo uso per venire qua, e poi si disattiva, fine, tocca Vale, non ho ancora usato lo scarabeus, Porca miseria, ma porca miseria, porca miseria, porca miseria, ma sono due, grazie, buone, 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 buone di ciò che ho fatto, torniamo indietro, Ho scambiato il mio serpente con la rana, e il serpente si disattiva, e la rana fa un cra, e arriva, si disattiva, non vi abbiamo spiegato cosa fa lo scarabeo, lo scarabeo spinge gli altri pezzi, lui sta fermo, ma un pezzo che gli è adiacente, lo spinge di una casella lontano da sé, se con questa spinta lo si butta fuori dal tabellone, è eliminato, quel pezzo non potrà più essere rievocato, è totalmente eliminato, brava Vale, perché tu puoi fare tutte queste cose, tipo, mi scambio, lo spingo, lo salto, lo va, va in diagonale, e ho vinto, peccato che l'ho fatto Vale e non l'ho fatto io, perché questo è For Genesis, che cosa fanno gli altri due animali? Ve lo lasciamo scoprire visitando la pagina del progetto, come sempre, link qua sotto in descrizione, e andiamo all'ultimo gioco delle Sodapop. Ed eccoci con il quarto e ultimo gioco delle Sodapop, ovvero Light Seeker, cercatori di luce, perché? Perché si è battuta una maledizione sulla nostra città, dove è arrivato tutto il buio, ma arriverà il nostro Boo ad aiutarci a riportare la luce. Quindi la vita riprenderà all'interno della nostra vallata, da cui tutti quanti sono fuggiti, e la nostra vallata sarà rappresentata proprio da questi 9 Cubotti, Cubotti che hanno facce al buio, come partirà infatti la nostra vallata, e facce illuminate, illuminate a metà oppure illuminate per intero. Scopo del gioco sarà essere il giocatore che riuscirà per primo a portare 7 punti luce, una zona composta di 7 punti luce all'interno della vallata, in quel momento quel giocatore sarà il vincitore. Riuscirò a vincere almeno una di queste partite, chi lo sa, se già abbiamo messo le mani avanti prima, oltre a ricordarvi che sono dei prototipi, ma soprattutto nel ricordarvi che noi non siamo capaci in questo genere di giochi, Sì, sottolineiamo. In questo saremo particolarmente meno capaci del solito a gestire tutti i quartieri del gioco. Quindi immaginate un po'. E come sempre ha delle regole semplicissime, ha degli elementi molto semplici, ma ha una strategia, una profondità tale che, se io ho perso tantissimo e malissimo, adesso lo farò proprio schifissimo. Ma, ma, sarò io il primo giocatore perché sono l'ultimo ad aver acceso una luce, preparando il setting per questo gameplay, e inizierò quindi facendo una delle azioni del gioco, che è o muovere o tiltare, ribaltare un cubetto. Quando si muoverà uno dei cubetti della mappa, si muoverà sempre un cubetto che abbia almeno uno spazio libero attorno a sé, in modo ortogonale, in cui muoversi. E facendo sì che alla fine di quel movimento i cubetti restino comunque facenti parte di un'immaginaria griglia, in cui va bene anche se si trovano adiacenti in diagonale ad altri cubetti. Lo, il movimento di base è semplicemente quello di far scorrere quindi un cubetto di un quadrato in un altro. Se invece voglio fare il ribaltamento, lo farò sempre scivolare nella zona della griglia che mi interessa, ma facendolo, in questo caso, ribaltare. E questo creerà le zone di luce. Quindi, io che parto, sceglierò di partire facendo questa... Non studia così tanto, mi preoccupa perché sa cosa vuole farci. No! Cioè, dai, mi bisogna sapere cosa vuole farci. Ecco, voglio dare l'impressione di sapere cosa vuole, io scelgo di ribaltare questo in qua, come prima mossa. Adesso, vale, questo è ancora setup, vale adesso posizionare la pedina di Boo sopra uno dei cubetti. Quel cubetto sarà bloccato, ovvero l'altro giocatore non lo potrà muovere. Tocca quindi nuovamente a me, perfetto, e adesso iniziamo a giocare. Partendo dal giocatore iniziale, nel nostro turno, noi dobbiamo fare due azioni, o di movimento, o di ribaltamento, come avete visto adesso. Con il vincolo, oltre di creare sempre una zona della valle totalmente unita, di... Avere un punto di luce più rispetto a prima. Esatto, rispetto alla condizione che avevi all'inizio del tuo turno. Quindi io avrò parto che nella vallata c'è un punto luce, e dovrò finire che nella vallata ci siano almeno due punti luce. Se finisco e ci sono sette punti luce in un'unica area... Hai vinto. Abbiamo... Bravo, hai vinto. Sei stato bravo. Bravo, ho vinto, però sarà difficile. Allora, io che vorrò fare? Facciamo così. Che voglio fare? Ho due movimenti, ho due azioni da fare. E facciamo... Uno... E due. Lo ribalto indietro. In questo momento ci sono due punti luce, che fanno però parte di due aree diverse. Siccome queste due tessere non si toccano la zona di luce, adesso abbiamo due aree, una con un punto luce qua, una con un punto luce qua. Non sono parte della stessa area, quindi non conta per la vittoria. Dopodiché sposto questo, che scelgo di spostare tipo... Qua. Prego, Ale. Era gialli? Bravo, Alberto. Mettiamolo dall'altra parte, allora. Va bene, va bene, Alberto. Allora, facciamo uno. Vale, prima azione ribalta lì. Adesso questa è un'unica zona composta da quattro punti luce. Vale, non ha modo con una singola azione di aggiungerne tre, quindi non ha vinto. Ma anche creare una zona di 5-6 punti luce è facile che magari io riesca a vincere nel mio turno. Bisogna fare molta attenzione, ma essendo obbligati ad aumentare la luce, non all'interno della stessa area, si può anche aumentare da un'altra parte, si rischia sempre di lasciare la vittoria all'altro, cosa che faremo. Cioè perché poi capiterà a un certo punto. E poi facciamo che sposto questo qua così, così. E non ti permetto di muovere. Non te lo permetterò. Allora, non ti permetto di muovere. Questo. Ok. 5. Il problema è che poi è facile che tu mi faccia 6-7, quindi no. Facilissimo. Quindi facciamo così. Prima azione ribalto questo in qua. E io comunque la luce l'ho aumentata, anche se non fa parte della stessa zona, perché c'è questa zona da 4 e ora quest'altra zona da 2. Va bene. Poi faccio così. Ok. E poi blocco questo. Perché direte voi, perché no? Dico io. Lasciate un commento e dite perché hai fatto. No, avessi fatto quest'altra azione. Perché poi così magari impariamo, anche grazie ai vostri commenti, a giocare meglio. E ho aumentato il punto luce. Sì. Però in questo momento non è collegato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ti faccio vincere. Non è facile. Io però posso provare a fare. Tipo. Che lì, scusami, e qui mi si è ribalta in questo senso. Allora. Allora. Io faccio. 1. Non ho ancora aumentato la luce, quindi non va bene. 2, 3, 4, 5, 6, e tu vinci. Non ho ancora aumentato la luce, cosa che devo fare. E allora lo faccio così. E fine. Va bene, perché anche in diagonale comunque si considerano parte del gruppo. Vengo a bloccarti questo. Cosa c'è qua sotto? Buio. Ora, il gruppo più grande è di 4 punti luce. Ma inizia già a esserci tanta luce nel nostro mondo. A un certo punto, dovendo sempre aumentare la luce, non si può far ritornare il buio, quindi si muoverà solo 1. E' aumentata la luce. E la luce è aumentata. Aspetta, lo so, aspetta. Allora, aspetta, ma che sono? 1, 2, 3, 4, 5. Se metti 6, 7 qua hai vinto. 6, 7, eh lo so, ma... E' qua. E' lì. E lo vedevo io di qua. Quindi, non riesco a vincere neanche questo gioco. In questo momento la zona di luce più grande ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti luce. Quindi, vale, riesce, grazie a Bu, a riportare la luce all'interno della nostra babbata. Un po' grazie anche a me che le ho detto. No, ma sapevo che c'è un modo... Ormai l'hai fatto e riuscire a vedere tutte quante le opzioni non è così semplice per noi all'interno di questo Light Seeker, che vi ricordiamo fa parte della collezione Sodapop, link qua sotto in descrizione. Se andate sulla pagina del progetto su BakerKit, progetto in partenza il 28 febbraio, troverete anche un quinto gioco, non all'interno di una lattina, ma bensì all'interno di un pacchetto di cose salate da dover sgranocchiare, da accompagnare le sbevazzate che vi potete fare in compagnia di questa fantastica collezione di giochi. Vi ricordiamo ancora che venerdì uscirà il nostro diario in cui vi daremo le nostre impressioni su tutti quanti i giochi. Vi diremo qual è il preferito di Vale, qual è il mio preferito, quale ci ha divertito di più, quale magari invece forse ci ha fatto faticare un po' di più nel gioco. E mi sa che avete intuito un po' quale sia. E vi ricordiamo di passare sulla pagina del progetto ringraziando ancora Thundergriff per aver sponsorizzato questo video. Noi come sempre quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video. Vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i Giullari vi salutano. E che il gioco sia con voi. Ciao! Ciao!